L'unica certezza è che è rinviato tutto a dopo lunedì prossimo, quando ci sarà l'assemblea di Lega Pro. Per quella data sarà chiaro che strada intende intraprendere l'avellino targato Angelo Antonio D'Agostino. Lo ha chiarito lo stesso presidente in un comunicato stampa nel quale viene appunto esplicitato che qualsiasi tipo di decisione di carattere gestionale sportivo verrà presa subito dopo quel giorno. Per ora dunque la posizione di Capuano, di Di Somma e di Ennio Pericolo come possibile direttore generale restano congelate. Angelo Antonio D'Agostino valuta, se così non fosse sarebbe strano e grave, poi sceglierà e infine comunicherà ai tifosi dell'OS Avelino che strada ha deciso di intraprendere e con chi. Un concetto molto importante che ha ribadito nella nota stampa è quello relativo al feeling che si è creato col presidente Francesco Ghirelli, ospita al parteneo Lombardi nell'ultima partita con la Terrana, così come quello con i tifosi è fondamentale, anche se l'imprenditore di Montefalcione dovrebbe conoscerli e capire che a lui chiederanno tanto e che se non sarà all'altezza non sarà risparmiato da attacchi e critiche. Insomma, il viaggio di nozze non potrà comunque durare in eterno. Anche perché al di là dell'emergenza Covid, la maggior parte delle società professionistiche hanno già pronto il piano A in caso di ripartenza e il piano B in caso di stop definitivo ai campionati. Sono chiari i ruoli, gli obiettivi e i budget e molti giovani dei più importanti vivai italiani sono stati già prenotati. Dunque, se D'Agostino fa passare troppo tempo, rischia di rimanere al palo. Intanto sul fronte economico, dopo aver fatto una sima approssimativa dei danni che tra mancati incassi al botteghino almeno fino a dicembre e degli sponsor di questa stagione della prossima monta un milione e mezzo di euro, il presidente si è immediatamente rifugiato in corner, congelando i pagamenti più consistenti che erano in agenda. Nel libro dei sospesi, parimenti alle tasse agli F24, sono così finite le rate al tribunale per l'acquisto del club dalla Sidigas dell'IDC, ma anche la liquidazione agli ex soci Izzo, Circelli e compagni. Da qui la frenata pure sulle decisioni da prendere per l'Avelino del futuro. Il tempo di capire se al milione e mezzo di euro segnato in rosso potrà sottrare qualche entrata in modo da indicare un budget chiaro a chi avrà il compito di costruire la squadra del domani.